... Un giorno verrà la pena di scoprire come si creano le immagini e ancora più più come pascherano le passe di Pagina. Siamo cresciuti accogliendo alcune immagini come i fatti precisi di personaggi pubblici vivi o morti, vediamo se corrispondano all'originale, ancora meno come siano stati creati, vale ancora di più per i presidenti che hanno i rettori portati su un numero rossa. Donald Reagan viene ancora visto attraverso il risultato dei pregiudizi della gente, a favore unico, non c'è nulla trovata in America che non possiamo aggiustare, io dubito che conosciamo il vero o la madre, tutte le persone che hanno lavorato per lui sostengono, non ho mai capito cosa scattasse di lui, fate domande da cui possa rispondere sì o no? non c'è nulla trovata in America che non c'è nulla trovata in America. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.